Per me è appunto, come dice lei, una festa, perché è stato questo teatro, è stata questa città che mi ha dato la possibilità di diventare così un'attrice come oggi con un consenso così alto e lo debbo a delle persone molto coraggiose che non posso naturalmente non ricordare che sono Luciano Fabiani, Giuseppe Giampaola, Enrico Centofanti che è qua con noi. Purtroppo gli altri se ne sono andati ma penso che era il minimo che potessi fare venire a questa festa e mi auguro che ci siano altri che sono stati come me insomma qui fatti, proprio costruiti perché altrimenti quando con Antonio Calenda siamo arrivati con Gigi Proietti, con tutti gli altri che noi non avevamo nessuna possibilità di usare il nostro verbo come ha detto Edoardo De Filippo di me, o verbo nuovo se non c'era l'Aquila e il teatro stabile non avremmo avuto, perlomeno io non avrei avuto questa possibilità. Lei ha un ricordo particolare della città in quel momento, al di là del teatro stabile, dei cittadini, come l'accolse questa città, lei così giovane, tutto il suo gruppo? Io posso dire una cosa molto familiare. Quando io abitavo all'hotel del parco era sempre là che facevo il giro per venire lungo le strade che portavano poi sotto i portici e poi portavano al teatro. Dunque sono le strade dei miei personaggi e tante volte ho visto e mi sono fermata con delle persone che sarebbero poi venute a teatro e io vedevo tutto insieme, tutto familiare, cioè delle persone che amavano il teatro e conoscevano anche i loro attori. E quando morì mio padre io andai giù da quel vecchio signore che era al portiere di notte e gli dissi io è morto mio padre e io adesso vado fuori, ma dice lui è notte dove va bene? E io ho detto vado alle 99 cannelle e sono stata là così tutta la notte a ricordare mio padre quello che era successo perché tutti i posti che sono stati per me è così una sede di, come dire, di memoria, di gioia andare alla chiesa di Celestino e insomma lungo la strada, cioè tutti questi posti sono i primi di cui ho domandato come stavano ecco come stavano di salute dopo aver avuto una così brutta, tremenda malattia ecco e penso che oggi con questa grande forza degli Aquilani questa città può ricominciare a vivere anche se con fatica, con tutti gli ostacoli che tutti sanno però secondo me se non ci fossero gli Aquilani, non voglio citare naturalmente altre regioni o altri paesi non starebbe così dritta questa città ecco In un'intervista recente Calenda ha detto che gli piacerebbe riportare la passione all'Aquila lei è stata una grande interprete della passione, le piacerebbe tornare insieme a Calenda qui? sì, beh, mi piacerebbe perché io non vedo la vita come un itinerario lungo ma piuttosto tondo dunque il fatto di tornare a quello che mi è familiare che è stato così importante perché anche la passione è stata molto importante perché diciamo io diventavo Maria in un luogo che è così, su quale andavo non dico a giocare ma insomma a camminare, a cosare in modo spensierato dunque è sempre stato un grandissimo appuntamento stare qua può darsi che la possibilità che dice Calenda poi mi colga felicemente insomma pronta Lei è una grande amica di Dacia Maraini che ultimamente ha lasciato l'esperienza del Teatro di Gioia come ha preso quella decisione? Lei, la Maraini ha detto che questa regione non è sensibile come altre regioni invece sono rispetto al teatro Ma io sono molto le... siamo come sorelle con Dacia Maraini ed ero lì quando le dissi, lei stessa lo ammette, di scrivere questa cosa visto che il direttore del centro aveva mandato come una lettera ecco, di rispondere attraverso il giornale ma non è che Dacia non ama questa regione, anzi ama molto ama molto l'Abruzzo e le è costato molto prendere questa decisione però bisognava prenderla per suonare un campanello d'allarme che mi sembra sia suonato ecco con questo Dacia dalla quale io vado tutti gli anni a Pesca Serro infatti mi ha fatto molto ridere che le nostre esistenze per tante ragioni anche altre che non importa dire sono così uguali che alla fine addirittura noi siamo tornati cioè lei ha scelto questa regione per vivere perché non ci va solo d'estate, ci va d'inverno, ci va d'pasqua per vivere io considero questa regione la mia città, la mia città artistica dunque ho detto pensa come anche questo c'è vicino per cui credo che l'amore che lei ha per questa regione non è venuto meno semplicemente bisognava come dico suonare questo campanello un'ultima domanda la città dell'Aquila negli anni 70 era una città di sperimentazione lei lo ha potuto verificare di persona ci sono delle realtà oggi così forti dal punto di vista teatrale della sperimentazione teatrale in Italia per la sua esperienza? ma io sono andata a volte a vedere per esempio settimo torinese che erano ragazzi che lavoravano in un garage così come avevamo cominciato noi con Calende e Proiette al 101 per poi venire qui non penso che oggi ci sia questa facilità perché cioè di andare come si andava allora nei teatri, nelle cantine dove eravamo noi non solo io ma naturalmente Carmelo Bene naturalmente Giancarlo Nanni naturalmente Guster era la possibilità però allora che l'offriva anche una cultura una cultura che scendeva nelle strade una cultura che entrava anche in posti scomodi e oggi c'è una grande invasione diciamo così di una cultura che non si può definire secondo me cultura televisiva e di conseguenza anche il teatro risente di questa di questa necessità di visibilità e di conseguenza la ricerca non è più com'era perché non ci sono più persone che non gli importa di essere visibili gli importa di affondare nella ricerca l'essere arrivati ai 50 anni credo che in questo momento per la cultura sia un traguardo importantissimo io ho sempre detto sono seduto su una poltrona che ha 50 anni di storia e so quanto da questa terra anche a livello proprio letterario tra Pomilio, Flaiano, Ignazio Silone insomma ripeto la vivo da, ma non dico retoricamente, proprio da studente cioè da persona che ha la possibilità di approfondire quello di cui si è sempre riempito la bocca non so se vi posso permettere, mi pare vi conoscete, ha detto il teatro una grande finzione però che dice molte verità possiamo dire così? assolutamente, perché la finzione è quella che noi mettiamo in scena nel teatro quando riesce ad essere più vera della verità diventa magia del teatro e credo che Proietti in questo che ho sentito non potrà essere qui ma abbiamo portato dei suoi estratti un suo messaggio lo ricorda con un'esperienza straordinaria se pensate che quello spettacolino a me gli occhi please fu portato poi al teatro Tenda e lui era convinto giù a Piazza Mancini a Roma che non si sarebbero mai riempiti di duemila posti e addirittura voleva cambiare il nome con Non c'è Mahler invece che chiamarlo a me gli occhi please è diventato uno dei caldo più importanti della storia del teatro italiano scrittura del teatro all'Agra si può fare scrittura? perché sono in mezzo a questione c'è io penso che la scrittura può essere fatta dovunque sicuramente andrebbe meglio poi questo non lo so non dipende certo da me il provveditorato ancora non mi appartiene come delega a conferenza ma sicuramente avere tra Flaiano, D'Annunzio, Pomiglio e Silone la possibilità che si conosca e questa serata del Galane è l'occasione perché tra pillole e testi che noi abbiamo recuperato di questi grandi autori che hanno fatto da ponti tra la cultura settentrionale e quella meridionale perché forse sarà stupido dirlo ma la centralità dell'Aquila è abbastanza singolare e nevralgica rispetto a quegli anni lì siamo in fase di rinascita e rinascere bene non costa molto 50 anni del TSA si guarda al passato ma si guarda anche al futuro con questa nuova legge regionale Sì, oggi comunque stiamo guardando al passato con delle personalità dove noi ci sentiamo veramente piccoli piccoli almeno in particolare perché avere qui persone come Piera degli Esposti che hanno rappresentato insomma la storia del teatro che sono stati attrici e hanno diretto appunto in momenti importanti sicuramente ci emoziona io mi sento appunto un'ultima catena anello di una catena che effettivamente deve ricongiungersi mi auguro a un altro processo che si sta mettendo su oggi quindi è uno sguardo al passato importante ma che deve guardarci anche il presente per proiettarci al futuro anche con la legge ma è un patrimonio di tutti che tra tante difficoltà dobbiamo sapere noi soprattutto in particolare all'Aquila valorizzare e cercare di tenere ben saldo per i nostri giovani, per le nostre future generazioni perché i nostri precessori sono riusciti a fare qualcosa sono riusciti a fare qualcosa nella cultura anche e soprattutto con il teatro stabile e non solo e noi dobbiamo cercare di mantenerlo certamente facendo forse un cambiamento forse epocale perché in passato anche errori sono stati fatti criticità ci sono state ma è stato comunque mantenuto 50 anni di storia di un ente importante e questo va ricordato e va detto e va salvaguardato 50 anni di storia e di storia importante della città dell'Aquila e non soltanto della città ma della cultura regionale abruzzese e della cultura in senso generale per il paese il teatro stabile dell'Aquila ha vissuto 50 anni durante i quali sono alternati momenti difficili ma anche momenti esaltanti la storia di questo teatro è la storia della nostra città della nostra regione e celebrare oggi questi 50 anni i primi 50 anni di vita del teatro stabile è un momento particolare di emozione per chi ha vissuto la storia del teatro e della cultura cittadina ma anche e soprattutto forse la storia che prelude a un futuro diverso che ci apprestiamo a vivere con la legge che a breve verrà esaminata in sede di consiglio regionale d'altra parte oggi il teatro stabile è il teatro stabile d'Abruzzo che oltre ad essere quindi di rilievo nazionale è una realtà forte e importante dell'intera regione che va salvaguardata considerata importante per quello che è soprattutto per il prossimo futuro e per la città è un segnale importante anche per la città celebrare questi primi 50 anni di vita e per la città